Siamo in compagnia del segretario regionale della FAILP, CISAL, Esther Cicero. Perché è importante essere qui oggi? È importante per evitare un disastro, è importante per evitare la privatizzazione che è un'inutile svendita perché lo Stato, come ho già detto più volte, già solo nella prima tranche ha perso 157 milioni di euro. Quindi è una svendita assurda che non si può assolutamente tollerare. Non siamo soltanto qui per la privatizzazione, siamo perché l'azienda non ha rispettato l'accordo sul recapito che doveva dare uno sviluppo, dove si doveva intercettare l'e-commerce, si doveva sviluppare la logistica integrata. Siamo qui per protestare anche per mercato privato, per le pressioni commerciali, per le pressioni sugli sportellisti. Quindi siamo qui per reclamare i diritti di tutti quanti. Siamo qui per salvare poste italiane, per salvare il popolo postale, per salvare il futuro dei nostri giovani. Grazie, ringraziamo il segretario regionale Esther Cicero della FAILP per la sua intervista e le auguriamo un buon sciopero sperando che questa manifestazione pacifica possa risolversi nel migliore dei modi. Grazie a voi. Arrivederci. Grazie a voi.